Salve a tutti, eccoci tornati per un altro tutorial strumentale, oggi parleremo di I Wanna Be Yours per metallofono, la versione per metallofono Ricordiamoci che questo è un brano in do minore, quindi mi bemolle, la bemolle e si bemolle saranno appunto bemolle Sul metallofono vengono indicati come re diesis, so diesis e la diesis, ma sono rispettivamente mi, la e si bemolle Questo perché insomma era più, diciamo, comodo scriverli così Ricordatevi che sono appunto note enarmoniche che condividono due nomi ma una singola nota con due nomi fa appunto una singola nota Fantastico, oggi mi sto spiegando benissimo Partiamo subito da do Quindi Lo fate due volte Poi Do, Sol, Fa, Fa, Mi, Do Do, Fa, Sol, Fa, Mi, Do Avanti Do, Si, Sol, Fa, 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 Mi, Do, Fa, Sol, Fa, Mi, Fa, Sol, Fa, Mi, Fa, Sol, Fa, Mi, Fa, Sol, Mi, Fa, Sol, La, Sol, Fa, Mi, Fa, Sol, Mi, Fa, Sol, La, Sol, Fa, Mi, Fa, Sol, Mi, Fa, Sol, La, Sol, Fa, Mi, Fa, Sol, Mi, Fa, Sol, La, Sol, Fa, Mi, Fa, Sol, Mi, Fa, Sol, La, Sol, Fa, Mi, Fa, Sol, Mi, Fa, Sol, La, Sol, Fa, Sol, Fa, Mi, Fa, Sol, Mi, Fa, Sol, La, Sol, Fa, 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 Sol dovrebbe essere finito qua se non avete capito fate ripartire un po più lento magari fermatevi dove ci sono dei punti che non avete capito cercate di seguire la melodia del cantante del cantato in modo tale da non sbagliare anche se non è quella però è praticamente uguale insomma a parte qualche piccola nota ma niente di grave bisognerebbe guardare anche gli accordi ma per il momento insomma tra l'altro lasciamo questa parte vi dico solamente che voi avendo due bacchette potete fare due note su tre io al momento sto reggendo il cellulare con una mano quindi non posso farvi vedere nulla dovrei arpeggiarvi gli accordi ma non è non è caso quindi al massimo la vedremo più avanti ciao e alla prossima